Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Partiamo con la seconda commissione che si è occupata di tematiche ambientali, audizione dei tecnici dell'assessorato regionale sugli impianti di incenerimento di Terni e a seguire il piano di strategia energetico-ambientale. 2014-2020, il servizio. Le procedure di legge relative alla conferenza dei servizi sull'autorizzazione di impatto ambientale per l'inceneritore Terni Biomassa sono state eseguite e hanno visto la partecipazione dei soggetti che ne avevano titolo. Tra questi non figurano i comuni limitrofi a quello interessato, Terni, dato che la giurisprudenza di Tarra e Consiglio di Stato non consente l'invito di comuni non direttamente coinvolti pene il vizio del procedimento amministrativo. È questa la valutazione espressa dai funzionari regionali del servizio autorizzazioni ambientali, Emanuele Smacchi e Paolo Grigioni, durante l'audizione convocata dalla seconda commissione consigliare, preseduta da Eros Brega, in merito alla vicenda degli impianti di incenerimento di rifiuti di Terni e al mancato invito dei comuni con termini in conferenza dei servizi. L'esigenza di ascoltare i due tecnici era stata rappresentata, la presidente della commissione, dai consiglieri fiorini della Lega Nord e liberati del Movimento 5 Stelle, previste nel merito altre audizioni già programmate con ARPA, ASLE2 e sindaco di Terni. A seguire, la commissione si è occupata del piano di strategia energetico-ambientale 2014-2020, predisposa dalla giunta di Palazzo Donini. Sul documento, il presidente della commissione Brega ha illustrato alcuni suoi emendamenti che mirano a legare la produzione di energia da biomasse alla produzione agricola, di incentivare l'idroelettrico, limitando invece l'eolico e il geotermico. Il voto sugli emendamenti e sull'intero atto è previsto per la prossima settimana. Ed anche in aula si è parlato di ambiente avviata, la discussione unificata su due analoghe emozioni delle opposizioni relative alla qualità dell'aria e agli inceneritori a Terni. Il voto rinviato a una prossima seduta. Vediamo. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha avviato la discussione unificata di due atti di indirizzo presentati dai gruppi di opposizione sugli inceneritori di Terni e sull'inalzamento della qualità dell'aria nella concaternana. Al termine degli interventi, l'Aula ha deciso di rinviare il voto, così come suggerito da Eros Brega del Partito Democratico e Raffaele Nevi di Forza Italia, per verificare la possibilità di giungere a un unico e condiviso documento sulla materia da approvare in una prossima seduta. La prima mozione porta la firma del Movimento 5 Stelle della Lega Nord e rimarca la situazione di grave criticità ambientale e sanitaria della concaternana, chiedendo dunque la contrarietà della regione agli inceneritori e alla creazione in umbia di attività volta all'incenerimento di rifiuti. Nel documento si chiede anche il trasferimento a Terni delle sedi operative e delle direzioni regionali, ambiente, energia e salute. Sì, è un'emergenza e purtroppo è una delle tante gravi emergenze di questa regione, se penso a quella sanitaria, trasportistica e tante altre. Allora, con Caternana da decenni è in una situazione molto grave. Abbiamo una concentrazione di metalli pesanti che va oltre i ragionevole, ma addirittura siamo tra i primi in Europa per tenore di nickel e cromo. Allora, su questo non una parola, negli ultimi anni è stata pronunciata dalla regione, se non pianificazioni che restano soltanto sulla carta. Oggi c'è l'irripetibile occasione di metterci le mani e per metterci le mani occorrono naturalmente i soldi, soldi che non vengono riservati se non vaghe promesse. Speriamo che le iniziative che sono state intraprese da Commissione e Regione in queste ore, in questi giorni, servono a qualcosa. Noi monitoreremo come mai fatto in precedenza. Ma Caternana sicuramente è un'area critica da un punto di vista ambientale, soprattutto per quel che riguarda la qualità dell'aria. È un fenomeno che si conosce da tempo. La presenza di industrie importanti, trattamenti anche di natura ambientale che ci sono, inceneritori. È un'area chiaramente in cui la dispersione anche da un punto di vista dei venti è critica, perché è una conca, come non è Perugia, insomma. Quindi evidentemente ci sono situazioni di criticità che sono all'attenzione, vanno affrontate e credo che il Consiglio regionale stia mettendo l'attenzione su questo punto per portare avanti delle politiche che vadano. D'antronde già il piano sulla qualità dell'aria prevede delle misure molto precise. Vanno attuate, oltre alla pianificazione, vanno attuate gli obiettivi che sono contenuti nel piano. L'altro documento di indirizzo, firmato da tutti i gruppi della coalizione del centro-destra e liste civiche, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Gruppo Ricci Presidente, ed è basato sulla richiesta, all'esecutivo di Palazzo Donini, di mettere in campo iniziative utili all'innalzamento della qualità dell'aria. L'emergenza è che bisogna affrontare questa questione in modo serio, in modo diverso dal passato, cercando di costruire un piano, un progetto, che innanzitutto ci consenta di costruire delle soluzioni e azioni concrete e che ci consenta, dall'altra parte, di indagare ancora di più la situazione dell'ambiente e anche della salute della concaternana. Senza un serio studio epidemiologico e senza un serio studio di quelle che sono le emissioni inquinanti, non possiamo certamente mettere in campo le soluzioni e per questo che io mi auguro che si faccia una risoluzione unitaria dell'intero Consiglio regionale sulla quale lavoreremo a partire dai prossimi giorni. La questione ternana è una questione complessa che viene da lontano. ternana è una realtà industriale importante, lo è stata chiaramente nel dopoguerra e ovviamente ci sono stati anche degli effetti collaterali. Ora penso che quello che debba fare la politica è fare una riflessione seria, mettersi a disposizione, correggere il più possibile ciò che non va. Su questo il Partito Democratico è stato molto coerente, non solo chiaramente in Consiglio regionale ma anche nelle istituzioni. Siamo a disposizione, l'abbiamo detto, per un percorso comune insieme anche alle forze di opposizione che nel rispetto delle regole e delle normative vigenti possa andare incontro chiaramente alle esigenze dei cittadini ternani per tutto quello che riguarda chiaramente un irrobustimento dei temi ambientali e chiaramente un lavoro serio per la maggior salvaguardia possibile del territorio. Manca la norma finanziaria rinviata alla discussione in aula sulla proposta di legge relativa a discriminazioni e violenze determinate da orientamento sessuale a firma di alcuni consiglieri del Partito Democratico. Il servizio. La proposta di legge ed iniziativa dei consiglieri del Partito Democratico Chiechieroni, Leonelli e Solinas, che detta norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, non è stata discussa in aula perché non corredata dalla norma sulla copertura finanziaria. Dopo aver acquisito in merito il parere dell'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni e in base a quanto previsto dal regolamento, da tutta la maggioranza, a partire dalle due presidenti, della Giunta regionale Catiuscia Marini e dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi, è stato assicurato che l'iter dell'atto verrà completato con urgenza e che la proposta legislativa verrà nuovamente portata in aula per la discussione e il voto in una seduta straordinaria prevista per la prossima settimana. Prima del rinvio, la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi ha incontrato le associazioni e i soggetti interessati alla proposta di legge spiegando che l'atto non poteva essere discusso perché non corredato dalla copertura finanziaria prevista fino al 2016 ma non attualizzata, al 2017. La presidente ha tuttavia assicurato che il rinvio non è legato da alcuna volontà di ostacolare la legge. L'Assemblea legislativa ha approvato le modifiche alla legge sul diritto allo studio universitario. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità il disegno di legge della Giunta che apporta modifiche alla legge regionale sul diritto allo studio universitario che detta norme al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nonché favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti. Con le modifiche apportate, ha spiegato in Aula il presidente della terza commissione, Attilio Solinas, si fa più stringente la finalizzazione verso l'obiettivo del lavoro con l'impiego di risorse europee per gli apprendistati di terzo livello, vale a dire dottorati e assegni di ricerca. Grazie al Fondo Sociale Europeo si prevede la gestione di procedure dirette a finanziare la mobilità internazionale e la rete dei servizi per l'impiego. Fra le nuove funzioni vi è Umbria Academy per la promozione sul piano nazionale e internazionale dell'offerta formativa dell'istruzione universitaria e terziaria regionale. Altro aspetto la previsione di accesso ai rifugiati ai percorsi di formazione. Poi la previsione di servizi di edilizia residenziale per studenti universitari e interventi sui servizi per la ristorazione. Altra nuova figura quella del garante del diritto allo studio degli studenti per far partecipare gli studenti stessi al controllo sulla qualità dei servizi. Con un emendamento a firma Andrea Smacchi del Partito Democratico previsto l'abbassamento della parte fissa e l'innalzamento di quella variabile dell'indennità dell'amministratore unico di Adisu. La stesura originaria prevedeva l'80% di parte fissa dello stipendio annuo come emendata la proposta di legge prevede la parte fissa al 60% e il 40% variabile in base ai risultati raggiunti. Un principio che premia il merito ha sottolineato Smacchi da tenere presente anche in futuro. Infine è stata approvata anche una mozione di Carla Casciari del Partito Democratico che chiede all'esecutivo di istituire e finanziare delle borse di studio universitarie e inclusive di vitto, alloggio ed esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione per i figli di emigrati umbri residenti all'estero che sono 34.670. Andrebbe quindi valutato insieme ad Adisu e sentito il parere del Consiglio regionale dell'emigrazione di integrare e completare il piano annuale degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con cui la Regione Umbria sostiene gli interventi finalizzati a sviluppare i legami economici, culturali e sociali con gli umbri che vivono all'estero. Audizione in prima commissione dell'assessore regionale Luca Barberini e il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti sul futuro utilizzo dell'ex ospedale cittadino. David Mariotti Bianchi Il piano di valorizzazione per l'ex ospedale Calai di Gualdo Tadino condiviso da Regione Umbria, Asla Umbria 1 e Amministrazione Comunale prevede la demolizione dell'ampliamento realizzato negli anni 60, il recupero della struttura ottocentesca, la ristrutturazione ed eventuale alienazione delle due palazzine adiacenti. Lo hanno spiegato durante l'audizione in prima commissione l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Prosciutti e il direttore generale della Asla Umbria 1 Andrea Casciari. L'intervento sull'area dell'ex ospedale è stato spiegato mira al recupero della struttura storica, al miglioramento urbanistico del comparto adiacente al centro di Gualdo Tadino e alla ottimizzazione del sistema dei servizi territoriali che troveranno spazio negli oltre 4 mila metri quadrati dei tre piani dell'immobile ottocentesco. I lavori per la cui prima fase sono stati già stanziati 2 milioni di euro dovrebbero iniziare nel 2019. La prima commissione ha approvato i piani triennali del patrimonio adottati dalle quattro aziende sanitarie Umbre. Vediamo. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria presieduta da Andrea Smacchi ha approvato con quattro voti favorevoli Casciari, Leonelli, Smacchi, PD, Nevi, Forza Italia e una stenzione Carbonari, Movimento 5 Stelle, i piani triennali del patrimonio 2016-2018 adottati dall'azienda USL Umbria 1, dall'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dall'azienda USL Umbria 2 e dall'azienda ospedaliera di Perugia. I piani erano già stati presentati in commissione. Per la USL Umbria 1 erano stati ascoltati a Palazzo Cesaroni il direttore generale Andrea Casciari e il dirigente del patrimonio Stefano Bernicchi, sottolineando come il patrimonio dell'azienda si sviluppa su 38 comuni ed è stimato intorno ai 190 milioni di euro. Per la USL Umbria 2 sono intervenuti il direttore generale Imolo Fiaschini e il dirigente amministrativo Enrico Martelli, che hanno spiegato come il piano presentato non tiene conto delle problematiche seguite al terremoto dell'ottobre scorso che ha interessato molte strutture aziendali. Per questo hanno detto è indispensabile una rimodulazione del piano che tenga conto della situazione post-sisma. Per l'azienda ospedaliera di Perugia sono stati ascoltati in audizione il direttore generale Emilio Duca insieme al direttore amministrativo Marco Ercolanoni che hanno ricordato come le disponibilità del patrimonio immobiliare stimato in 170 milioni di euro sono concentrate in due uniche realtà, il polo unico di Sant'Andrea delle Fratte e due immobili nel vecchio quartiere di Monteluce. Per l'azienda ospedaliera di Terni infine sono intervenuti il direttore generale Maurizio Dalmaso e il direttore del patrimonio Riccardo Brugnetta che hanno spiegato come il patrimonio attuale corrisponde a 30 milioni di fabbricati e 3 milioni di euro di terreni. E sempre in prima commissione l'assessore Luca Barberini ha fatto il punto sul sostegno di inclusione attiva in servizio. La prima commissione di Palazzo Cesaroni, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione l'assessore Luca Barberini per un approfondimento sul sostegno di inclusione attiva. Barberini ha ricordato che il SIA era uno strumento che doveva anticipare una forma ancora più strutturata di reddito di inclusione approvata dal Parlamento proprio in questi giorni, il REI reddito di inclusione che dal 2018 sostituirà il SIA. Le regioni colpite dagli eventi sismici hanno chiesto ed ottenuto novità importanti nei criteri per l'accesso alla REI. Nelle zone del cratere, infatti, il valore ISEE per l'accesso alla reddito attivo passa da 3.000 a 6.000 euro. Vengono escluse dal computo delle ISEE le case danneggiate, inagibili e distrutte. Viene escluso dal computo ISEE la quota di reddito che deriva dal patrimonio immobiliare e viene escluso dal computo dei 45 punti della valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare richiedente. Il REI, inoltre, ha come strumento di valutazione solo il reddito disponibile, andando così a sostenere situazioni non coperte dal SIA. In sostanza, ha spiegato Barberini, ci sarà più attenzione sul reddito disponibile effettivamente per sostenere i bisogni della famiglia. Barberini ha poi ricordato che il SIA è nazionale operativo dal 2 settembre scorso. I dati IMSS ci dicono che nel 2016 sono state presentate circa 200.000 domande e ne sono state accolte circa il 30%. In Umbria le domande sono state poco più di 2.000 e ne sono state accolte 418, mentre 50 sono ancora in fase istruttoria presso l'Inps. Al SIA nazionale si somma il SIA più che nasce come una scelta implementativa della regione. Abbiamo ampliato il target, ha spiegato Barberini, per andare incontro alla fascia di reddito sopra 3.000 euro che non supera i 6.000 di ISEE. Nel 2017 per i disoccupati l'intervento previsto è di 1.500.000 per 420 destinatari finali con una borsa lavoro di 500 euro mensili. Per i soggetti vulnerabili poi sono previsti 2.000.000 con i quali pensiamo di raggiungere, ha detto Barberini, 416 destinatari finali. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie.